Una grande rotatoria che collega ben sei strade, una di queste è quella che porta all'ospedale. Siamo al San Paolo, in via Caposcardicchio, dove gli incroci semaforici sono stati ormai eliminati e la nuova viabilità è già stata aperta. Un'opera particolarmente attesa dei residenti perché consente di fluidificare il traffico abbattendo anche i tempi di attesa. Per garantire il collegamento tra le vie che non convergono tutte nello stesso punto, è stata adattata la forma della rotatoria, un po' allungata, frutto di uno studio del Politecnico di Bari. In abbinamento a questo intervento è stata completata anche una traversa di via Trentino Alto Adige, espropriata 40 anni fa ma mai completata. Aperta al traffico a senso unico è stato realizzato anche un parcheggio al servizio dei residenti della zona. Definita la viabilità si lavora al completamento della rotatoria della pista ciclabile che sarà realizzata lungo il perimetro. Un crocevia in cui convergono sei strade differenti dove c'era un impianto semaforico particolarmente complesso che aveva anche dei tempi di attesa molto lunghi. Questo comportava la formazione di code, creava delle condizioni di discomfort sia per l'allungamento dei tempi di percorrenza ma soprattutto per le condizioni ambientali prodotte dall'inquinamento sonoro e ambientale che il traffico in generava. Tutto questo è già scomparso perché da qualche settimana abbiamo eliminato i semafori, siamo già con un assetto viario del tipo a rotatoria. La rotatoria che si estende per circa 7.000 metri quadri diventerà una vera e propria piazza con aria ludica all'interno, illuminazione, verde e sedute. L'opera da 3.250.000 euro sarà completata nel 2023. Poiché le dimensioni della rotatoria sono delle dimensioni importanti, si è ritenuto opportuno riqualificare lo spazio centrale rendendolo attrattivo sia per i bambini ma sia anche per le persone perché ci sarà una dotazione anche di arredi di primissimo ordine, una fontana beverino, una dotazione di giochi, insomma tutto quello che renderà lo stazionamento delle persone particolarmente confortevole.